Megliorare così le prestazioni su Sunsoft Forest rispetto alla vecchia versione che quando laggava ti veniva voglia di disinstallarlo oppure chiedere rimborso a Steam. Ovviamente oggi con la nuova versione completa riusciamo anche a superare gli oltre 80 fps in Full HD e riusciamo anche ad arrivare, se ci riusciamo con questo nuovo settaggio, a arrivare fino a 100 fps e togliere del tutto il lag su Sunsoft Forest. Quindi in questo caso andremo prima a fare delle modifiche su Nvidia Profile Inspector che ti ho lasciato in descrizione, andremo così a fare dei vari settaggi sul programma Nvidia App, sempre su Sunsoft Forest e poi dopo andiamo direttamente nel gioco a fare le sue modifiche. Quindi in questo caso cominciamo prima con Nvidia Profile Inspector, il link in descrizione ti potrà essere sulla pagina di Mediafire per scaricare un pacchetto RAR da estrarre e all'interno della cartella troverai direttamente questa qua. Questa è la cartella di Nvidia Profile Inspector, ci clicchi sopra e si aprirà così il programmino. Una volta fatto cerchi qua sopra Sunsoft Forest, scendi fino a giù, fino a trovare l'anti-losing, trasparenza, smooth sampling, questo qua. Metti il 0 per quello che finisce per 8, quindi fino a trovare il texture filtering, metti on e il texture filtering più 00 metti più 00 5000 a tutti e due. Una volta fatto, applichi così le impostazioni. Se in questo caso non riesci ad applicare così Sunsoft Forest e se non esce qui, come puoi vedere, il programma .exe, clicchi qua sopra, aggiungi l'applicazione al profilo corrente e metti così il tuo gioco. Lo prendi nella cartella e insedisci così il programma, come puoi vedere, eccolo qua. Applicazione, fai apri. Applicazione, exe. Una volta fatto, chiudiamo qua e passiamo direttamente alle impostazioni di Nvidia per ottimizzare il gioco. Ovviamente sempre in descrizione ti ho lasciato il programma, questo è il nuovo Nvidia app che sostituisce così il GeForce Experience più l'altro pannello che trovavi qua sotto, il piccolo pannello di controllo di Nvidia. Come puoi vedere, eccolo qua, si sono uniti alla fine. Noi possiamo direttamente andare su Sunsoft Forest qui e mettiamo prestazioni e ottimizziamo il gioco. Frequenza fotogrammi, ti posso consigliare il disattivato oppure l'attivato fino a 1000 fps, però prima proviamo il disattivato. Modalità basa latenza e metti globale ultra. Tecnologia monitor compatibilità G-Sync 6 sulla tua scheda e sul tuo monitor supportano G-Sync. Sincronizzazione verticale disattivato per non bloccare gli fps. Una volta fatto, è finito qua e andiamo direttamente sul gioco. Ovviamente, come puoi vedere, questa è la grafica. In alto a destra, come puoi vedere, fps 84. Si, tengo la destra abbassata, 83. Quella è l'acqua. Riusciamo ad andare oltre 70 fps. Io avendo una scheda grafica 1660 Super, non ho problemi di lag, grazie a queste nuove impostazioni su Nvidia App. E adesso non ci resta che andare su Opzioni, Grafica, ed eccola qua. Occlusione ambientale metti Off, distanza di rendering metti ultra bassa. Se in questo caso hai risolto così il tuo problema di lag, puoi anche aumentare un po' di distanza di rendering per vedere meglio il gioco, perché ultra bassa non è che si vede molto bene. Quindi scendi fino a giù, c'è l'anti-aliosing, il bloom lo disattivi, e poi c'è la risoluzione dinamica. Se la metti su, su T, W, U, isoluzione dinamica, destinazione 120, e te la riduce ancora di più la grafica. Come puoi vedere, guardate bene le rocce, quindi vado su Opzioni, tolgo così questo, la differenza tra quella distanza della dinamica attivata e disattivata. Quindi in questo caso queste sono ottime impostazioni per non avere problemi di lag, quindi come ho detto, se hai risolto il tuo lag, puoi anche aumentare un po' la grafica sulla texture e sulla distanza di rendering per vederlo un po' meglio. Quindi per altri problemi, commenta sotto al video. Se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!